E rientriamo in studio. Oggi alle 19 si inaugura la mostra Vuoto a perdere presso lo spazio Timbia, la marmora. L'ironico titolo della mostra vuol far riflettere sulle contraddittorie condizioni di un settore come il design. Affascinante, glamour a parole, pieno di attenzioni virtuali, ma allo stesso tempo incredibilmente vuoto, perché privo di originalità e professionalità. In questa zona grigia di difficile gestione si collocano i lavori di Francesca Soggiù, in arte Franci Girl, che si muove con leggerezza tra citazione, gusto, vintage e ironia rock. Teschi che convivono con cuori a pua e fiocchi rose e anche occhi fumettistici che osservano improbabili spermatozoi. L'esposizione ad ingresso libero presenta più di 400 articoli, orecchini, anelli e ciondoli, tutti interamente fatti a mano. Intanto domani, 28 ottobre alle 19, lo spazio T fa il bis di inaugurazioni con il primo aperiti della stagione con Chekhov 1, un assaggio di teatro dedicato al maestro dei racconti brevi, drammaturgo, scrittore e medico russo, vissuto a cavallo tra 800 e 900. E passiamo allo sport, apriamo la nostra consueta pagina del sabato con il calcio. Nel campionato regionale di eccellenza si gioca domani, la settima giornata. L'Alghero, reduce dalla vittoria per 2 a 0 sul Tempio, al Mariotti, va a far visita al Castiadas. Il Fertilia invece sarà impegnato nella difficile gara casalinga con il latte dolce. Settimo turno nel campionato di eccellenza. L'Alghero è attesa dalla trasferta a Castiadas, mentre il Fertilia giocherà in casa con il latte dolce. Tutte le gare cominceranno alle 15 per il cambio dell'orario. I giallorossi, dopo essere tornati alla vittoria sette giorni fa in casa contro il Tempio, battuto 2 a 0, cercano un altro risultato positivo per rilanciarsi ancora in classifica. La formazione allenata da mister Calvia non veniva da un periodo facile, tutt'altro, e il successo del Mariotti ha restituito positività e vigore all'intero ambiente. Certo è che la partita di domani non si presenta semplice. Il Castiadas precede gli algheresi di un punto e nello scorso turno ha pareggiato 0 a 0 sul campo del Muravera. Diversi gli assenti tra le fila giallorosse. Intanto Fabrizio Serra, fuori per squalifica, al quale si aggiungono Piras e Urjas, ancora infortunati. Difficile anche l'impegno che attende il Fertilia. La formazione di Pabar, riduce da un pari esterno in casa del Pula, 0 a 0, vuole ritornare a vincere per non staccarsi troppo dalla vetta della classifica, che vede in cima il Porto Corallo con 15 lunghezze. I giuliani sono terzi a quota 11, dividono questa posizione proprio con il Latte Dolce, avversaria di domani, e il Taloro Gavoi. I sassaresi, che bene stanno facendo in quest'inizio di stagione, anche in Coppa Italia, sono reduci però dalla sconfitta interna con il Porto Corallo, che li ha superati 2 a 1. Non potranno essere schierati Palmisano, alle prese con uno strappo, e Letizia assente. Intanto per quanto riguarda la classifica generale, c'è un cambio. Infatti il giudice sportivo ha segnato la vittoria della gara tra San Massi e Pula, di due turni fa, quindi la quinta giornata, proprio a favore dei padroni di casa, con il 3 a 0 a tavolino. Questo dopo il ricorso presentato dalla squadra di casa, che contestava lo schieramento tra le file avversari di un giocatore squalificato. E si gioca la medesima giornata anche in seconda categoria. Nel Gironi G entrambe le formazioni locali saranno impegnate in casa. La pietra Ialghero, capolista con 14 punti, si prepara ad ospitare lo Sese, seconda in classifica, e a soli meno due punti dalla formazione di mister Correddu. Una partita difficile quindi, dove ci si gioca la vetta nella graduatoria. Anche il Maristella giocherà in casa in questo turno, avversaria di domani la Fulgor Sassari. La squadra di mister Angelo Bardini in classifica ha otto punti, e gli avversari invece ne contano due in meno. Dunque anche in questo caso sarà una sfida interessante. Passiamo a parlare di motori. La gara automobilistica Alguero-Scala Piccada non si fa. L'ACI ha disertato gli incontri con l'amministrazione comunale ed è saltata l'organizzazione della storica manifestazione sportiva. Un brutto colpo per il territorio. Come era prevedibile, avevamo il nostro malgrado annunciato già a fine settembre, la gara automobilistica Alguero-Scala Piccada non si farà. Questo è il secondo anno consecutivo che non si svolge la storica manifestazione, giunta alla 54esima edizione. Un'ammazzata per il territorio, dove si è sempre a caccia di nuove manifestazioni e idee, mentre ci si fa sfuggire appuntamenti storici e di grande richiamo che meriterebbero maggiore attenzione e sostegno. Il comune in questo caso non avrebbe responsabilità, almeno in relazione alla nuova amministrazione. Infatti il sindaco Lubrano più volte si è reso disponibile ad incontrare i vertici dell'ACI, che invece hanno disertato gli appuntamenti. Uno schiaffo per tutto il movimento automobilistico e, ripetiamo, anche per l'offerta turistica del territorio. Come CatalanTV più volte ci siamo occupati dell'argomento e abbiamo sostenuto in ogni modo l'Alguero-Scala Piccada, ma è chiaro che manca la volontà dei vertici dell'organizzazione. Nell'ultima trasmissione andata in onda, da noi realizzata, i piloti, in particolar modo Roberto Salaris, avevano chiaramente detto che è meglio di fare le cose di fretta e opportuno ripartire dall'anno prossimo in maniera più efficace. Ma Sergio Farris, decano dei motori, riteneva di non mollare anche per il 2012 perché c'è il forte rischio che la gara da campionato italiano diventi una corsa di paese. Oggi la notizia è che anche quest'anno l'evento sportivo non si farà. A questo punto è necessario capire come agire per il futuro. C'è chi dice di ripartire da zero e da maggio 2013 far partire la prima nuova Alguero-Scala Piccada. Di sicuro l'ACI dovrà dare delle spiegazioni pubbliche su quanto accaduto. In occasione della partita di campionato di calcio a 5 tra Alguero-Femminile e Riei, valida per la seconda giornata, la società algheresi ha deciso di organizzare, anzi di far partire più precisamente, una raccolta fondi che proseguirà per tutta la stagione, utile per acquistare un defibrillatore per la squadra e anche per quella delle Aquile Onlus. L'inizio della gara è previsto alle ore 16 sul parquet del Palacorbia. L'ingresso sarà ad offerta. La società invita per questo la cittadinanza a partecipare numerosa. Ed oggi alle 17.30 sempre il Palacorbia ospiterà la Mercedes San Paolo Basket Delser Libertas Sporting Club Udine. Match valido per la quarta giornata del Giro nel Nord del campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile. Le due formazioni si presentano a pari punti nel gruppo delle terze insieme ad Interclub Muggia, l'Obsarre di Milano e Tecmar Crema con due vittorie e una sconfitta. Entrambe le compagini sono reduci da un successo. La sfida sarà arbitrata dal comasco Michele Leoni Orsenico e dal milanese Roberto Radelli. Si spera che davanti al pubblico di casa la Mercedes possa continuare a vincere e a guadagnare punti preziosi in classifica. Passiamo a parlare di rugby. La nuova acqua amatori rugby al Giro è attesa domani alle 15.30 dalla gara con il Cus Padova, valevole per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie A. Una partita non facile per il 15 algherese allenato da Gert Pins vista la presenza tra le fila a Padovane di diversi giocatori che hanno disputato anche il campionato di top 10 e godono quindi di molta esperienza. Ma comunque la squadra avversaria è una neopromossa e gli algheresi dovranno cercare di mettere il meglio in campo anche per guadagnare punti preziosi in chiave classifica dopo aver azzerato il gap iniziale di meno 8 punti per la penalizzazione. Il tecnico giocatore Pins avrà tutti disponibili tranne il tongano Apicotoa che deve scontare una giornata di squalifica. Si spera che la compagine giallonera possa ritornare dalla trasferta in terra veneta con dei punti. Intanto domenica prossima in programma il derby con il capoterra dove gioca anche l'ex di turno Marco Anversa. E la Pallovale chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Vi auguro un buon fine settimana e vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.